L'osteartrite è una malattia dolorosa che colpisce il 20% dei cani sotto l'anno di età e l'80% dei cani sopra i 5 anni, mentre nei gatti la malattia è presente nel 15% sotto l'anno e può arrivare a colpire 9 gatti su 10 quando superano i 10 anni di età. Ma la cosa che più sorprende è in realtà il fatto che l'osteartrite è tra le malattie maggiormente sottodiagnosticate dal veterinario, ma anche dal proprietario, che non si rende conto che il proprio cane ha un problema e di conseguenza trascura il dolore che avverte. Credici oppure no, ma se noti che il tuo cucciolo si stanca facilmente dopo il gioco o è pigro o magari cammina strano o come in punta di piedi oppure che corre come un coniglio, allora presta molta attenzione perché questi sono solo alcuni dei segnali di sofferenza che indicano dolore da osteoartrite. Ma anche cani più adulti possono manifestare segnali come non salire più sul divano o in macchina, non salire più le scale o piuttosto far fatica a trovare la posizione da seduto. I gatti invece possono dormire più del solito oppure evitano di fare i salti o magari semplicemente miagolano arrabbiati quando si cerca di prenderli in braccio o anche solo accarezzandoli sulla schiena. Voglio però essere chiaro su un punto. La osteoartrite è una malattia cronica dalla quale non si può guarire, ma solo curare. La gestione è spesso una vera e propria sfida, sia perché è costosa, sia perché è spesso frustrante. È necessario essere pazienti e perseveranti perché è fondamentale identificare la più appropriata combinazione di interventi e trattamenti che dovranno essere usati per il resto della vita dei quattro zampe. Se mi seguo in questa puntata scoprirai infatti 1. Quali sono le opzioni terapeutiche nel caso che il tuo peloso soffra di una malattia degenerativa delle articolazioni, 2. Se i cosiddetti controprotettori servono davvero e 3. Cosa c'è dietro l'angolo di promettente in grado di cambiare radicalmente l'esito di questa dolorosa e debilitante malattia. Ma non è finita qui perché se guardi fino alla fine questo video andrò a sfatare tre miti grossolani al riguardo di questa malattia a cui spesso molti proprietari credono. Però prima passa la sigla. Mi presento, sono il dottor Sergio Abbondanza, medico veterinario. Con i video della rubrica I consigli del vostro vet aiuto i proprietari di cani e gatti a migliorare e a rinforzare la salute dei propri pelosi in maniera pratica, facile e gratuita, facendo risparmiare denaro nel risolvere piccoli o grandi problemi che possono capitare senza per questo dover andare ogni volta dal tuo veterinario. Anche se per te il doc deve essere sempre il tuo alleato di ferro nel mantenere a lungo, sano e forte il tuo quattro zampe. L'osteartrite è una malattia cronica che può essere presente già fin dai primi mesi di vita. Causa danni a tutta l'articolazione. Induce progressiva perdita di tessuto cartilaginio, rimodellamento osseo e infiammazione di tutti i tessuti articolari. L'osteartrite è il processo che consegue ad esempio alla displasia delle anche o dei gomiti, o della lussazione della rotola nel ginocchio o in sorge in seguito ad osteocondrosi, una patologia che ha molte cause e che colpisce la cartilagine di accrescimento delle ossa lunghe come l'omero o il femore, osservato soprattutto nei cani giovani e in crescita di grossa taglia. Della displasia delle anche ne ho parlato in due videopillole, la numero 58 e la numero 59. Ti metto il link in descrizione se mai te le fossi perse. Ma quali sono le cause di questa condizione così invalidante? Soprattutto sono genetiche, quindi ereditarie dai genitori o dai nonni, come già spiegato nei video sulla displasia delle anche. Però possono essere anche cause traumatiche perché la osteoartrite può insorgere in seguito ad una lussazione di un'articolazione o per distorsioni o magari per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Ad ogni modo, quale che sia la causa della comparsa di osteoartrite, l'importante è che la terapia preveda un approccio multifattoriale, cioè una combinazione di cure chirurgiche e cure mediche con farmaci, integratori e strategie per la gestione del peso, la corretta alimentazione, il movimento e la fisioterapia. Si usano farmaci antinfiammatori, antidolorifici, controprotettori, alimenti specifici dedicati, fisioterapia, laser terapia e agopuntura. Ma c'è anche una promettente terapia all'orizzonte, che si sta facendo in realtà anche in Italia da un po' di tempo. Ne parleremo tra poco. Come già accennato, un ruolo fondamentale lo riveste la chirurgia. Ad esempio, nella displasia delle anche e dei gomiti, è possibile eseguire degli interventi di chirurgia preventiva, che permettono di evitare o di rallentare il deterioramento e la degenerazione dell'articolazione. Si eseguono a partire dai 4 mesi d'età e per molti cani rappresentano una vera salvezza, essendo in grado di impedire lo sviluppo dell'osteartrite e successiva artrosi. Oppure, nel caso che ormai la frittata è fatta e ci si accorge troppo tardi che il proprio cane sta soffrendo in conseguenza della malattia, per cui l'artrosi è ormai allo stadio avanzato, la chirurgia oggigiorno può persino prevedere la sostituzione dell'articolazione con una protesi perfettamente funzionante. Questa possibilità è una realtà consolidata per quanto riguarda le anche, da più di 10 anni con ottimi risultati. Mentre per la displasia del gomito è ancora riservata a centri avanzati e in Italia, al momento, a mia conoscenza, purtroppo nessuno è in grado di eseguirla. Tornando alle possibilità terapeutiche, le cure mediche a base di farmaci e nutraceutici, ovvero principi attivi naturali che hanno effetti benefici sulla salute, che vengono utilizzati per trattare la osterotrite, si possono suddividere in due gruppi, quelli volti a modificare i segni clinici e quelli volti a modificare la struttura dell'articolazione. Questi ultimi sono infatti capaci di ritardare, stabilizzare o persino riparare le lesioni articolari. Invece, quelli che modificano i segni clinici non sono in grado di influenzare la progressione della malattia, ma solo alleviare il dolore e l'infiammazione che è associata alla condizione. Tra questi la fanno da padrone gli antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, acronimo che sta appunto per farmaci antinfiammatori non steroidei, per differenziarli invece dai steroidei, che sono appunto i cortisonici. In commercio ne esistono decine, funzionano tutti allo stesso modo e la scelta se usare uno piuttosto che un altro ricade inizialmente sulle minori probabilità di avere effetti collaterali, dato che questi farmaci sono tra quelli dove è più probabile incontrarli. Vomito, diarrea e inappetenza sono i più comuni, ma anche ulcere gastrointestinali, danni renali, epatici e disordini della coagulazione non sono poi così rari. Fortunatamente la ricerca si è sempre focalizzata su trovare nuove molecole con i minori rischi possibili, ma purtroppo al momento nessun farmaco si può definire esente da effetti collaterali, sia nel breve che nel medio o lungo termine. Neppure quelli definiti COX-2 selettivi per intenderci, i principi attivi che finiscono in COX-IB. Ma sono tutti allo stesso modo efficaci nel ridurre il dolore e la infiammazione? Credici, oppure no, ma l'efficacia dei FANS non è tutto uguale. Uno non vale un altro e, come dicono gli inglesi, one size doesn't fit whole. La taglia unica non va bene a tutti. Non entro nel dettaglio dei meccanismi farmacologici e dei meccanismi biologici con cui un animale, uomo, cane o gatto che sia, reagisce ai farmaci. Ma è chiaro a tutti che quando, ad esempio, abbiamo un mal di testa, io mi devo prendere un'aspirina perché solo con quella mi passa. Magari un'altra persona deve prendere un moment chi la novalgina e chi invece senza occhi proprio non riesce a stare. Sono tutti farmaci antinfiammatori. Tutti hanno lo stesso meccanismo d'azione, in vitro, ma in vivo hanno efficacia diversa. Lo stesso accade appunto nel cane e nel gatto. Quello che funziona con un soggetto non è detto che abbia la stessa efficacia e gli stessi effetti collaterali che in un altro. Quindi, per rispondere alla domanda se tutti i FANS sono efficaci allo stesso modo, la risposta è no. Per cui, se per caso il tuo peloso non migliora più di tanto con un tipo, magari è necessario cambiare principio attivo. Lo stesso dicasi per gli effetti collaterali. Magari un farmaco provoca più facilmente vomita e diarrea, mentre un altro no. Una cosa fondamentale da sapere sulla terapia con FANS è che vanno somministrati per lunghi periodi di tempo, 3, 4 mesi o anche di più, ovviamente riducendo il dosaggio. Forse ti stai chiedendo il perché, dato che già dopo i primi giorni il tuo peloso sembra stare già meglio e sei giustamente spaventato dall'uso cronico di medicinali e sui possibili effetti collaterali che ne possono conseguire. Per adesso lascia che ti dica che si è scoperto un meccanismo neurologico in grado di sensibilizzare le terminazioni nervose per stimoli dolorifici a bassa intensità ripetuti e che i FANS sono in grado di evitarlo. Per cui l'uso continuativo dei FANS a basso dosaggio per evitare effetti collaterali evita la ipersensibilizzazione delle radici nervose e spegne il dolore. Accanto ai farmaci anti-infiammatori non steroidei non posso accennare ai farmaci steroidei, ovvero il cortisone. Di questa classe di farmaci ne ho parlato abbondantemente in una videopillola e se mai te la fossi persa o semplicemente desideri riguardartela ti metto il link, come al solito, in descrizione. Diciamo che il cortisone è un'ottima arma, potente, sempre efficace, a volte miracolosa, se vogliamo, ma è un coltello a doppio taglio. Se fa molto bene da una parte, può fare molto male dall'altra. Funziona molto bene per trattamenti brevi, ma alla lunga fa danni. Peggiora innanzitutto la situazione articolare danneggiando la cartilagine. Poi predispone a problemi ormonali, a problemi infettivi, abbassando le difese immunitarie e disordini dermatologici, solo per citare i più comuni. Di solito si riserva ai casi gravi, ma come si dice, mali estremi, estremi rimedi. Però con molti ma. L'argomento è ancora lungo e ricco di informazioni. Voglio dirti le ultime novità e devo ancora sfatare i falsi miti di questa patologia. Quindi ti aspetto alla prossima puntata per il secondo tempo. Pausa, popcorn, il bar è aperto! Grazie!